Eh, potrebbe essere una bella cosa. Io scommetto al quindicesimo della prima canzone. Opla! Vogue, 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 eccolo qua. E magari un palo in testa come Lady Gaga. Chi è? No, 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 ne ho parlato di Giza. Eh, lo sapevo. Per me, buongiorno, scusate, non dite niente che io devo pulire. Lidia, ma non aveva... non aveva smesso di fare le pulizie? Scusi, ma non faceva la bella vita con la sua amica Sbatonchia? No, mi fate pensare, per favore, che mi girano i nervi, eh? Non ho voglia di parlare. Oh, alza più! Oh, calma, e senta, già che disturbo, almeno ci dica cosa le è successo. È stata una retata? Cosa è successo? Eh, no, Leandro, quale retata retata? Uno solo si è affermato con me e siamo andati a casa sua. Ah, e mi dica, che avete fatto? Subito a letto, eh, Zizi? E cosa dovevo fare? Dire le barzalette? È logico, eh, com'è andata? Siamo stati a letto per sei ore. Prima io sopra e lui sotto, poi io sotto e lui sopra. E poi? 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 Lui sopra e io sotto e dopo io sopra e lui sotto. Ah, è così tante volte addirittura? È mica finito! Le ultime abbiamo fatto io sotto e lui sopra, lui sopra e io sotto e poi io ho detto basta! Ah, perché era stanca, scusi? No, Pì, perché il letto a castello mi ha fatto male la schiena. Ma quello letto a castello? Scusa, non avete fatto zinzina? Ma quale zinzina, zinzina? Quello teneva più problemi di figlio di io e fiorella messi insieme. Vabbè, almeno ha guadagnato qualcosa. Sì, ho preso 8 euro all'ora. Come per fare la polizia? Lilia, ma doveva chiedere di più, scusi. È certo, almeno il triplo. È che ci dovete fare delle formazioni professionali. Porca matrionsca! Ma non lo capisco. Di formazione professionale. Una volta che ci dà, scusi. Vabbè, lasciamo stare. Sono il Guru Josh, questo è il remix del 2012 di Infinity di DJ Antoine e Mad Mark.